Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale, come potete vedere dopo un bel po' di tempo torniamo con Call of Duty Black Ops Cold War ovviamente video incentrato sulla nuova mappa zombie che è stata introdotta con la season 6 si è passato un po' di tempo dal rilascio di questa nuova season ma c'è stato il periodo della beta di Battlefield 2042 ragazzi ci sono chiuso come se non ci fossero domani, c'è stato anche un periodo in cui non sono stato così tanto bene ovviamente come potete vedere siamo di nuovo senza webcam perché chi avrà visto il video su Hell Let Lose già lo sa io comunque ve lo ripeto, piccolo recappino, questo PC non è più in grado di registrare gameplay più webcam quindi non posso più fare nulla ragazzi, per ora i video saranno così senza webcam purtroppo, non lo so ragazzi, io avvio la registrazione con la webcam, inizia ad andare tutto a scatti non so perché fa così, non ne ho veramente idea comunque a parte questo, allora la nuova e credo ultima mappa è renegato qui la spiegazione della stagione 6 dice vecchi amici, nuove mappe multigiocatore e il finale mozzafiato di zombie quindi oddio c'è scritto finale, credo sia l'ultima mappa allora andiamo a giocare in singolo perché quando giochi a zombie online trovi solo coglioni e non è un'offesa, è veramente così siamo anche con mouse e tastiera e ho notato che giocando su console con mouse e tastiera nelle registrazioni va a far sembrare che il video laghi invece no, non so il motivo ragazzi poi magari voi fatemelo sapere nei commenti eccola qua, rinnegato ovviamente dall'ambientazione così come tutte le altre mappe zombie rilasciate sono prese dalla modalità storia io l'ho conclusa circa un mese fa, dopo 8 mesi che il gioco è uscito l'ho conclusa finalmente andiamo di AK che ho già il setup zombie per raccogliere cose così possiamo potenziare ovviamente primo gameplay in assoluto, prima di adesso non ci ho mai giocato, è proprio una scoperta che facciamo insieme ok mazza graficamente è bella eh round 2 eh in che senso? perché round 2 scusami? uno ne ho ammazzato vabbè facciamo un po' di punti ok qui c'è un teletrasporto che ok ancora round 3 eh c'è qualcosa che mi sta sfuggendo ragazzi perché avanza di round così? da un po' che non gioco con mouse e tastiera questo praticamente è uno dei pochi giochi che il suo console lo supporta non sono tanto ma raga cos'avo... perché round 4? ma non è che è tipo il... la prima zona della mappa moon eh dove arrivano zombie in continuazione però su moon non aumentavano i round cioè ti arrivavano zombie con una ferocia inaudita e entra nella struttura raga me ne vado perché vedo che... aspetta però qualche kill sta cosa però è utile se vuoi fare punti eh eh no raga continuo a aumentare round andiamo via andiamo via il riscaldamento ma come il riscaldamento? cosa vuol dire il riscaldamento? ok ho aumentato un po' l'audio perché in effetti era un po' basso cazzo stavamo già rischiando qua eh adesso ce ne possiamo andare o mi da ancora in preparazione qua cos'è? ok andiamo via sì credo sia il primo round stile moon arrivano all'infinito utile se vuoi fare punti e skin eh eh questi giustamente sono già inferociti mortacci vostri spero spero ho visto una curazzina non va lo scatto a volte ok vi ho alzato anche un po' l'audio dei dialoghi ne lasciamo uno esegui duecento uccisione usando fucili d'assalto io sto giocando su PS5 il grosso del lavoro l'avevo fatto su PS4 ma vedo che ogni volta le sfide me le risbloccano non ho capito sta cosa visto che l'account e il profilo Activision è lo stesso ok no l'unico punto per andare avanti è quello aspetta qui c'è il Jugger me lo prendo così almeno oh corre corre andiamo via andiamo via andiamo via allora esploriamo un po' come ho detto il primo game non so nulla si praticamente questo qui come ho detto anche prima tutte le mappe zombie rilasciate su questo cold war sono state prese dalla campagna questo logo qui praticamente se non sbaglio veniva usato dai sovietici ripeto sempre nella modalità campagna come diciamo zona di test no tipo tipo poligono di tiro infatti si ispira una cittadina comunque americana riusciamo a farci almeno corazza ah ce l'ho già perchè l'ho raccolta ok eeeh boh non so apriamo un po' vediamo un po' le stanze qua qui abbiamo la la quick revive cos'è sta musica poco cringe ok qui abbiamo un teletrasporto proviamo raggiungi tetto video video noleggio ok ma sbaglio nella prima zona c'erano ancora tipo mille porti da aprire siamo già andati avanti allora mi prendo la speed cola cos'è nemmeno carichiamo più velocemente e niente si esplora vediamo un po' sembra sembra grande come primo impatto qui abbiamo la corda volendo puoi scendere si subisce un po' di danno ma se ti potenzi la bibita energia più non hai più danni da caduta raga io seguo l'obiettivo eh perchè si ci sono un bel po' di cose da aprire ma tanto ci ritorniamo il solito teletrasporto di omega mezzo rotto la intorno dovrebbero esserci dei pezzi di ricambio cosa vuol dire pezzi di ricambio? ah ma è danneggiato? cerca le parti per la riparazione tacci tua spera qui dice che c'è una cassa io la rischio perchè non c'è più colpi un'arma secondaria può sempre servire basta che non mi dai armi del cazzo cioè mi va bene qualsiasi cosa pur che sia automatica minchia va bene eh non è che mi offendo va bene va bene tacci tua ok area di ricerca cheeseburger ah gli ho sbagliato tasso e gli altri non me li fa prendere boh non lo so ragazzi cioè ripeto primo game gabbia friggitrice cazzo ci devi fare ok quindi questo era il primo pezzo non so apriamo di qua vediamo un po' no mi sa che qua non c'è niente vabbè tanto però poi bisogna aprire tutto quindi area di ricerca ecco ah abbiamo finti i soldi mazza quanto non sono più abituato con mouse e tastiera raga dà una vita che non gioco a code possiamo? ok questo tubo a raggi catodici ok quindi due su quattro mille e due che palle questa è la zona iniziale della missione quando accedi a questo poligono di tiro diciamo area di ricerca no è qua sotto vabbè senti uccidi l'ultimo bagarozzo qua circuito stampato 2,50 e niente 3 su 4 andiamo all'ultimo però non abbiamo proprio soldi dobbiamo aprire qui quanto costa? mille punti vabbè fai uscire 4 stronzetti questo chi è? tormentatore ah torna da mauer der totten ok però con questa pistola a raggi c'è un'altra di culo diciamolo eh sono più per le armi tradizionali con colpi normali lo sapete però vedendo che comunque fa mille di danno a colpo per un po' qua sciuttiamo andiamo un po' questo è il cinema abbiamo i pop corn abbiamo i film occhio area di ricerca dice che è qua ma non c'è io non vedo niente aspetta 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 eccolo qua lente convergente e boh niente dai andiamo a costruire anzi in realtà a riparare il teletrasporto vediamo un po' come si avanza poi gireremo anche per le altre stanze giusto per attivare il pack a punch e avere un potenziamento sull'arma ok lo usiamo subito mica che mi fa come prima raggiungi l'entrata del bunker vai ok mica mi da un po' di atmosfera non so bioshock alcuni dicono bioshock ditelo come cazzo volete io dico bio ok posso andare avanti si 1250 mazza ma quanto è immenso sto posto raga fammi esplorare tutto qui perché oddio però non mi sembrano grandi posti dove poter girare bene qua ti fai blizzare subito dagli zombie ecco questo ma corre si si oh che cazzo ma non si muove eh no 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 si muove si muove si muove si muove voglio leggere il nome prima di ucciderlo abominio dimortacci su quanto sei brutto ho finito pure i colpi è quello il problema dimortacci tua eh le compro della cappa perché della pistola costano mille dove è andato il bagarozzo qua ma mi prendi per il culo oh oh dobbiamo entrare qui raggiungi la torre d'osservazione e vai va cazzo ci sono un botto di teletrasporti su sta mappa eh ah qui me ne devo andare immagino annulla isolamento no aspetta scusa ma ha fatto venire qua per un motivo non vorrei morirci però no raga ho paura di morire attiva sto coso sblocca la paca punch ok che già avevo visto non ci abbiamo i soldi ovviamente ma me ne devo andare da qua raga perché ci muoio si ok non puoi restare là all'infinito eh sono stati un po' bastardi su sta cosa eh la prima volta che capita una cosa del genere in una mappa quindi ok il paca punch l'abbiamo attivato adesso ci facciamo un po' di punti giusto per fare anche il primo paca punch sull'arma e boh giriamo un po' per la mappa vediamo vediamo un po' di cose vediamo occhio al bagarozzo ok qui c'è la bombetta malapio corazzina round 10 allora esploriamo un po' va qui avevamo già guardato lì è tutto aperto anzi vogliamo ritornare nella prima zona che lì siamo andati subito avanti giustamente devi prima attivare il paca punch secondo me che non so neanche come si torna indietro lì sulla mappa mi da il simbolo di un aind trappo l'ind sospeso si ok quello della campagna da lì scendevano i sovietici per l'addestramento adesso mi ricordo come si torna indietro dovrebbe essere questo in teoria ponte main street vediamo si ok ok da qui siamo arrivati c'erano un botto di porte che non abbiamo aperto voglio vedere bene la mappa com'è mamma mia quanta gente ok di qua già c'eravamo stati di qua si può scavalcare si se questa è la stamina me la ciuccio si va così almeno corriamo più veloci non abbiamo il danno da caduta perché l'ho potenziato al massimo come vi ho detto prima quanto faccio pena nella mira questa però è la seconda zona non è la prima ritorniamo nella prima un secondo però qui è dove avanza in continuazione di round giusto vediamo se lo fa di nuovo anche dopo l'attivazione del pack a punch dovrebbe iniziare ad aumentare di round in modo pericoloso possiamo dirlo e la capa ovviamente inizia a fare meno danno perché è il livello base corazza al 2 ci facciamo l'arma all'1 così almeno aumenta un po' il danno ok qui in realtà avevamo già esplorato induttore di fura attiva per far apparire gli zombie più in fretta e rendeli più veloci nelle round 20 ehm no magari lo proviamo dopo cos'è sta roba percessione della morte ah questa è la nuova bibita ok quindi quel meccanismo che avanzava di round di velocemente si disattiva una volta che tu abbandoni questa zona per la prima volta vedete che adesso le ondate sono normali però se la vuoi riattivare tu vai là lui te lo dice chiaramente e ovviamente è pericoloso però se vuoi fare tipo le skin delle armi dove devi fare gli headshot e cose così secondo me è perfetta sta cosa se ormai uscirà a vanguard chi se lo caga più questo quello è il problema allora qui invece c'era un teletrasporto ecco vedete adesso è aperto vediamo un po' raggiungi la torre d'osservazione ok quindi dopo che attivi il paka punch puoi ritornare direttamente da là però siamo nella zona dove ci sono le radiazioni fammi fare l'hp a livello 1 va far rodere il culo sta cosa che non ci puoi rimanere master in scivolate raga ma hanno aggiunto nuove bibite perché non c'era tutta sta roba in questa zona dovremmo già aver visto tutto io nel dubbio sto ricontrollando ma qui c'è la daikiri letale che non compro mai perché boh non ha molto senso queste sono le solite intel va bene va bene 4 sal 3 riusciamo no non riusciamo burger town già l'abbiamo visto non ho capito sti cheeseburger magari è per l'easter egg molto probabilmente poi guardate il logo burger town raga questo è quello di mv2 è proprio palese si vede qui le macchinette le hanno disattivate nella campagna ci potevi giocare world at war richiede un gettone arcade no raga dove li piglio i gettoni arcade? di qua avevamo già guardato no in realtà qua sopra no fammi vedere no non c'è nulla di interessante saliamo all'ultimo piano la si ritorna indietro gettoni arcade aspetta scusami l'ho trovato proviamo dov'era? là sotto devo capire che cos'è aspetta raccogli informazioni vabbè nel dubbio raccoglie che qua basta che non ti tolgono soldi dal conto corrente raccogli tutto allora dov'è che era qua? però scusami fammi uccidere ok world at war ma non è che mi fa giocare veramente a world at war non ci credo non ci ma veramente? non c'è la webcam perché dovresti vedere la mia espressione quando ti vengono accreditati un milione di euro sul conto inizi ad avere paura per la finanza per l'agenzia delle entrate ma che cos'è? ovviamente a tempo perché stiamo giocando a world at war raga ma veramente? è uguale la mappa raga è uguale a parte la grafica giustamente è migliore quindi sta mappa mo l'abbiamo vista dappertutto oltre al dlc5 di black ops 3 l'abbiamo vista pure su su cold war non ci sto credendo qua ci sono tutti i barili probabilmente puoi fare gli easter egg della musica sicuro eh finiti i colpi eh scusami non posso comprare niente ma non è vero eh però la parte di qua l'hanno chiusa e allora non mi scammate non è a world at war questa è la mezza world at war non ho armi raga ma cosa devo fare qua con i pugni vabbè che puoi rimanere qui solo per due minuti sì magari il fatto di non mettere le armi ci può anche stare perché non non puoi rimanere lì all'infinito c'è un tempo va bene va bene ok e boh chissà le altre cose cosa ti fanno fare no questi sono di minigiochi the rising drake no raga devo raccogliere un gettone quanto dura sto video sei ore eh allora ho fatto qualche potenziamento per quanto riguarda le armi abbiamo la k al paga punch al 2 e non riesco a trovare altri gettoni cavolo vorrei giocare su the rising drake oddio allora come mappa non mi è mai piaciuta però minchia vederla in in cold war giustamente la curiosità c'è non è che non c'è qua inizia a diventare anche un po' più difficile soprattutto in singolo però la k tira buoni colpi fa veramente male la bomba la bomba la bomba ok acquista gettoni arcade 10.000 all'immortacci tua mamma mia alla tua età mi chiedi un milione di lire ma quando avrò 60 anni che cazzo mi chiedi un miliardo ci siamo ficcati in un punto del cazzo ma io sono il campione a fare ste cose tira una scimmiettina qui va mi piace mette 6 ore su sto gioco a lanciare le scimmiette ovviamente sull'abio minio non funziona non puoi manco spammare con la rega ma com'è possibile ok raccogli qualche minchia ma ha demolito tutta la no vabbè no usare le munizioni di queste armi non conviene sull'abominio sentite facciamo così allora proviamo sta cosa 2000 così vediamo com'è dai giusto per vedere un po' la mappa vediamo come funziona vai a fare nel culo quanto li toglie eh non si vede non li toglie un cazzo raga vedete ma non li scende manco la vita vabbè allora piano b non è un problema uso il bonus con c ok dove era the rise and drach qua ecco qua proviamo abbiamo altre 10.000 volendo cioè abbiamo 15.000 possiamo spenderne altre 10.000 per l'obiettivo ma questa qui non è the rise and drach perché dici menzogne o mi son preso qualcosa io ma the rise and drach non è così o devo attivarla prima con sto baracchino lo so lo so devo ucciderli quando sono all'interno ho giocato a epidemia lo so boh raga boh vediamo la milano si si te la puoi tenere guarda calcio del mulo no potevo prendere la terza arma cazzo calcio del mulo si però scusate mi ha scammato qua c'è scritto the rise and drach io pretendevo di giocare su the rise and drach ho sbaglio cioè non lo so come ordinare una pc 5 da amazon e poi mi arriva un mattone tu non è che dici mmm bello sto mattone no inizia ad aprire la mano inizia ad alzare il dito medio e poi bestemmie giusto giusto o no ok ok il lanternino è qui è qui è qui è sparito ah perché abbiamo superato il round 20 quindi semplicemente quella lanterna lì attivandola ti porta alla round 20 già da subito capito perché infatti adesso è scomparsa però ma mi diceva infatti se vuoi raggiungere la velocità degli zombie del round 20 ma avendolo già raggiunto ok ti piacerebbe minchia quanti danni fa quest'arma bevi per vedere i nemici attraverso questa è la bibita nuova vabbè giusto per vedere dai bella sta cosa che vedi gli zombie attraverso il muro minchia come giocare con l'imebot cazzo ok allora direi che possiamo chiudere il gameplay perché sto registrando da poco più di un'ora proviamo l'estrazione anche su questa mappa se capisco come ci si arriva perché non mi da nessun nessun percorso cioè si mi da lì il punto proviamo di qua non lo so aspetta 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 non si sa mai mi compro una scimmietta e l'elicottero d'assalto va ah hanno aggiunto il lanciafiamme eh raga hanno messo un sacco di cose io è una vita che non ci gioco va bene va bene tranquillo tranquillo abbiamo i gadget giusti abbiamo anche la reaganal 2 non è un problema ah ok la prima zona i mortacci tua eh vai va uso il supporto aereo raga perché qua se no ci si spaccano meno male l'ho comprato più che altro quel bestione difficile da tirare giù no me la prendo con gli zombie così a meno o meno gente da ammazzare ok ok l'ultimo è lui a posto si 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 è l'ambientazione della storia si vede tutte le mappe zombie come ho detto sono così va bene va bene va bene vediamo un po' come è l'estrazione ma non credo sia diversa va bene ok dai nulla di particolare ci facciamo un recap veloce ragazzi questo video sarà durato tantissimo ma quando giochi a zombie è così cioè non è che puoi far durare poco il video è impossibile stavo dicendo ci facciamo un recap veloce delle bibite che hanno messo vediamo un po' ecco vedete master scivolate questa è proprio nuova percezione della morte che quella dove vedi attraverso i muri già c'era infatti ce l'ho al massimo master scivolate immunità ai danni ambientali mentre scivoli durata dello scivolamento aumentata minchia già sei veloce con sta roba immunità ai danni esplosivi autoinflitti ah ma questo è il phd flopper gli hanno cambiato il nome raga vedete che c'è scritto phd slider sui vecchi codi si chiamava phd flopper quando ti gettavi giù dalle altezze faceva l'esplosione si hanno un po' snaturato tutta sta cosa delle bibite vabbè io comunque qualche potenziamento forse riesco a farla al massimo vediamo no me ne servono 5 vabbè pazienza va bene signori a parte questo direi che con questo video possiamo fermarci qui io come sempre vi ringrazio per il supporto fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate di questa mappa fatemi sapere anche se il gameplay notate degli scatti perché come ho detto giocando da mouse e tastiera su console nelle registrazioni si nota io il gioco lo vedo fluido siamo su ps5 addirittura ho scaricato il texture pack che ti migliora la qualità e il gioco è fluido però ho notato dai video che dove gioco con mouse e tastiera in effetti lag probabilmente perché non è implementato come su un vero computer comunque ripeto fatemi sapere cosa ne pensate ci vediamo alla prossima un saluto a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.